tocchiamo ferro tocchiamo le dita io sono carico a Pallettoni considero che in due anni abbiamo sentito tutte le domande possibili però queste che abbiamo sentito qua erano tra le più intelligenti e in più anche qualcuna nuova e ci hanno dato degli stimoli io ho percepito una grande energia quindi a me è piaciuto molto la domanda a me ha entusiasmato e penso anche a te grazie